La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, avrebbe contratto il Covid durante le festività natalizie, paucisintomatica, sarebbe guarita all'inizio. Durante le feste di Natale Giorgia Meloni sarebbe risultata positiva al Covid. A riportarlo è l'Ancronos precisando che la leader di Fratelli d'Italia avrebbe contratto il virus in forma leggera riportando qualche linea di febbre per poi negativizzarsi all'inizio di gennaio una volta ripresa l'attività parlamentare. Ci sarebbe dunque anche lei tra i milioni di italiani che tra Natale e l'Epifania sono rimasti contagiati dal Covid, complici le riunioni familiari e l'alta contagiosità della variante Omicron. Per il momento la diretta interessata non ha ancora confermato l'indiscrezione la quale non ha precisato se siano risultati positivi anche il compagno, la figlia o altri parenti. Alla ripresa delle attività del Parlamento, la Meloni era comunque già negativa come dimostrato dalla sua presenza tanto a Montecitorio quando ai vertici del centro-destra convocati per confrontarsi sull'elezione del prossimo capo dello Sato. Musica Musica Musica